Partenza prevista ore 20 e 15 da Piazza Duomo, tempo permettendo. A rischio il tradizionale giro della rua di domani, grande incognita e il maltempo previsto in serata. La manifestazione inserita nel registro regionale delle feste storiche prevede un primo corteo lungo le vie del centro storico con la ruetta. Un secondo invece resterà stabile in Piazza dei Signori, in attesa del primo per poi accendere la rua, monumento ricco di storie e suggestione che dà il via a musica, canti e balli. Dobbiamo fare i conti col tempo, per cui ad esempio la rua stiamo a vedere se il tempo ci consentirà di farla. Per il resto gli spettacoli vanno avanti.